Sono stati ufficiati i funerali di Antonio Costantino e Massimiliano Ceccarelli, le due guardie giurate in forza alla società di vigilanza privata Paul Service, morte in un incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Celia Marina e Cropani unite in un dolore insopportabile, una sofferenza senza limite per la morte inaspettata e tragica di Antonio e Massimiliano, 48 e 47 anni. Erano a bordo dell'auto di servizio quando hanno impattato frontalmente un'utilitaria coreana. Luogo della tragedia, il crocevia è in prossimità del chilometro 199-200 nel comune di Celia Marina, a poche centinaia di metri dalla sede della Paul Service. Antonio e Massimiliano sono deceduti sul colpo. Ferito in modo grave, il conducente è della Kia Rio. È stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ed affidato al personale sanitario del suo M118 e il successivo trasporto in ospedale. Lavoravano insieme da anni le due guardie giurate, unite nel lavoro, nella sorte e nell'ultimo saluto che hanno condiviso nella piazzetta a mare a Celia Marina. Le due bare, posizionate una accanto all'altra, escortate dai colleghi. Celia Marina e Cropani sono addolorate ma non rassegnate. La rassegnazione non è del cristiano che crede invece nella fede e nella resurrezione del Signore ed ha la certezza che i suoi cari continueranno a vivere anche dopo la morte in paradiso, ha detto Don Giuseppe Cosentino nella sua omelia di commiato. Grazie.